ciao oggi siamo qui con marzia nel suo regno nella sua attività perché perché ci deve raccontare una bella storia qual è la storia marzia 39 anni di attività svolta con amore devozione e passione per quale motivo siamo qui marzia oggi perché io sono diventata vecchia non è vero non è vero un'intenzione è arrivato il momento di avere il meritato riposo e quindi si presenta una grande opportunità per chi vuole intraprendere eventualmente o questa attività o anche utilizzare il locale perché qui correggimi se sbaglio marzia noi vendiamo tutto quanto pure macchinari tutto quanto vediamo per cui chi vuole intraprendere l'attività la possibilità di partire già con un avviamento importante con anche i clienti che è importante avere clienti a giorno d'oggi oppure chi è buoni oppure chi ha uno studio chi ha un ufficio qualsiasi attività uno voglia svolgere qui la possibilità di farlo c'è qualcuno che invece è stanco di pagare l'affitto magari nello studio nell'ufficio dove si trova vuole fare l'investimento venire a svolgere la sua attività qui ecco c'è la possibilità giusta se volete informazioni in più dettagli con me marzia mi ha affidato l'incarico per cui sarò ben felice di aspettarvi nei nostri uffici di vitali immobiliari indiale bovia 375 ciao a tutti ciao di nuovo